Ho cercato in tutte le maniere di poterla vincere una partita e non siamo stati fortunati in alcuni episodi, come avete visto, con Rosina, con Stellone, però non posso rimproverare niente alla determinazione della grinta. Alla grinta è anche troppo riduttivo perché si parla di Novellino, ma che la squadra gioca, che praticamente Novellino ha messo una squadra oggi che poteva fare un grande risultato, non ci siamo riusciti e anche per alcuni episodi non fortunati da parte nostra.